Ci siamo conosciuti non tantissimo tempo fa, sono circa due anni, però è stato molto divertente come ci siamo conosciuti, eravamo a una festa. Ci siamo conosciuti ad una festa a cui non volevo neppure partecipare, ma sono andata così con delle amiche. Con amici, amici in comune, però io e lei non ci conoscevamo in realtà, nonostante avessimo fatto tanti anni di università praticamente insieme. Il giorno io ho salutato tutti i suoi amici. È arrivato a salutare tutte le mie amiche e io, con discrezione, non come vi ha raccontato lui, mi sono girata verso la mia amica e gli ho detto E questo chi è? Cioè, e questo chi è? Cioè, senza urlare come ha detto lui, era per dire perché saluta tutti e non saluta me? Allora io mi sono dovuto girare e presentarmi con ciao, piacere, io sono Corrado, allora ho visto che hai chiesto chi sono. E poi da lì, semplicemente nel giro di qualche mese, è andata avanti e non vedo l'ora di poter stare con lei davvero come marito e moglie finalmente. E poi da lì, semplicemente nel giro di qualche mese, è andata avanti e non vedo l'ora di poter stare con lei. E poi da lì, semplicemente nel giro di qualche mese. Grazie a tutti.